Magnifico tonno, tutti i nuovi, sono i venegrati, i 23. Mi permetto di visionare la sua attenzione su alcune cose che chiediamo in particolare. Intanto per dare il senso del corpo, dalla qualifica di agente, fino al dirigente generale, l'Aquila è sempre la stessa, che poi l'Aquila si arricchisce del bastone di comando con le segnali dell'Ispettore Superiore, che è la qualifica subdirettiva di rango che ha il bastone di comando. L'altro elemento particolare è che abbiamo cambiato le stile, e quindi questo è l'affrancamento all'insegna militare. Però abbiamo preso la fornella, perché questo è un ancoraggio alla nostra tradizione di nascimento. È molto legante.